Professore, sentiamo spesso parlare di energie rinnovabili, forse ancora troppo poco? Certamente sì, troppo poco. Usciamo da un'era che è l'era del petrolio per adentrarci all'interno di un nuovo mondo, in parte ancora sconosciuto, in parte da ancora conoscere più approfonditamente. Le energie rinnovabili sono il nostro futuro, rappresentano sicuramente il nostro futuro. Vediamo oggi la pressione che si sta vivendo, anche di tipo mediatica, su quelli che sono gli aspetti climatici che ci affliggono e che ci porteranno a grandi investimenti economici e a grandi risorse che i vari stati del mondo dovranno indirizzare verso il risanamento del nostro pianeta. Le energie rinnovabili possono dare un contributo fondamentale a dare una risposta a questa emergenza e probabilmente saranno anche la chiave di uscita definitiva dalla crisi economica che ci attanaglia, visto che alle energie rinnovabili corrispondono anche grandi possibilità di lavoro per le persone. Quindi il numero di posti di lavoro che si creano con le energie rinnovabili è davvero importante e una chiave interessante su cui lavorare per i prossimi anni. Professor Ippolito, quali possono essere i contributi oggi che ci possono arrivare dalle energie rinnovabili? Il fotovoltaico è forse già oggi la tecnologia più matura e più nota anche in Italia, anche alle singole famiglie, è presente in maniera diffusa nel nostro paese. Alcuni errori del passato hanno impedito di creare una filiera del fotovoltaico in Italia, però oggi si sta ripartendo e ripensando anche a un nuovo modo di fare gli impianti per cercare di avere i benefici totali, pensiamo agli impianti con l'accumulo energetico, pensiamo alla possibilità di diffonderli sempre di più sulla rete, vincendo tutte quelle che sono le problematiche che la rete stessa deve sperimentare dal numero crescente di questi impianti. Quindi per il futuro possiamo essere positivi, vedere uno sviluppo coerente di queste tecnologie che ci porteranno sicuramente a un benessere sociale, a un social welfare per il nostro paese e per il mondo in generale.